È un episodio che fa necessariamente riflettere e che non va sottovalutato perché dà l'idea di quali siano a volte i valori dei più giovani. È successo in una scuola della bassa padovana. Cinque ragazzini di 13 anni si sono fotografati con i telefonini, mentre con un pezzo di plastica in mano simulavano sorridendo, qualcosa che ricorda un'esecuzione dell'ISIS. Vittima un compagno con in testa degli indumenti intimi. Una goliardata fatta da ragazzini, l'hanno definita forse un po' troppo superficialmente in molti, che però è costato loro una sospensione da scuola. Scene, quelle delle esecuzioni feroci da parte di uomini mascherati, cui evidentemente anche i più giovani si stanno abituando. Tanto da rielaborarne una versione il cui intento probabilmente era quello di divertire, ma il fatto è che non c'è nulla da ridere. I ragazzini, dopo aver organizzato le riprese, hanno diffuso la scena sui social e l'immagine, via WhatsApp e Instagram, girata un mese fa. Ha fatto il giro del mondo via web per poi tornare tra le mura dell'istituto, fino ad arrivare agli occhi della dirigente scolastica. A questo punto è scattata la punizione, oltre alla sospensione di tre giorni, l'obbligo di vedere con i genitori degli psicologi. Una punizione per molti necessaria, per altri addirittura eccessiva. Quello di cui i ragazzi dovrebbero tener conto, e dovrebbero farlo anche i loro genitori, è che oggi con internet e i telefonini possono fare cose che rimangono per sempre, e rimarranno anche quando, una volta adulti, sarà più difficile far passare un episodio come questo, come una semplice bravata.